Si tratta di un'apertura delle nuove professioni, di fatto la nostra professione da oggi con l'avvento della riforma della legge potrà offrire l'opportunità a tutti gli agenti immobiliari di svolgere la propria attività su più livelli di professionalità. Fra questi livelli di professionalità ci sono anche l'estensione ai mutui, l'estensione alla ristrutturazione, l'estensione ad altri progetti sempre nella filiera del comparto immobiliare che permetteranno agli agenti immobiliari di incrementare il loro business e di incrementare anche la propria agenzia come numero di specializzazioni.